Ciao a tutti ragazzi, ho avuto oggi un nuovo video per farvi un annuncio importantissimo perché ragazzi io appunto ho aperto un secondo canale ragazzi che non ha niente a che fare appunto sul calcio però ragazzi appunto che abbraccia un'altra mia grande passione che è quella appunto per i videogame ragazzi io appunto su questo canale porterò tanti tanti contenuti, tanti video ragazzi appunto tanti gameplay, delle rubriche, insomma degli approfondimenti ragazzi su tutto quello appunto che riguarda il mondo dei videogiochi a 360 gradi quindi ragazzi appunto di PlayStation 5, appunto di Xbox, insomma di tutte le console ragazzi appunto tanti video, io cercherò appunto di riportare tanti contenuti anche lì e in contemporanea appunto anche di continuare a pubblicare ovviamente ragazzi anche sul canale su questo canale qui, questo ragazzi rimarrà sempre appunto il canale principale però io appunto ho provato ragazzi, voglio provare ad affiancare anche questo secondo canale ragazzi appunto per provare ad andare appunto a prendere maggiori persone ragazzi appunto di creare ancora una community ancora più grande io appunto spero appunto che questa idea vi possa piacere ragazzi appunto quindi nel caso io appunto vi invito ad iscrivervi che è fondamentale, attivate la campanella anche su questo secondo canale trovate il link qui sotto in descrizione iscrivetevi, non vi costa niente ragazzi seguitemi anche lì io vi ringrazio veramente tanto ragazzi di cuore un saluto a tutti, alla prossima, ciao!